buongiorno a tutti questa è la seconda parte del tutorial per la compilazione della domanda di mobilità per la scuola secondaria di secondo grado allora ritorniamo sulle istanze online del sito del ministero di istruzione della università e della ricerca andiamo sulle istanze e scendiamo fino a trovare domanda di mobilità di secondo grado accediamo a vai alla compilazione e come al solito andiamo a cliccare l'informativa sulla privacy ho letto e accettato i termini e le condizioni legali facendo clic in questo tasto avanti entriamo prima nel in una pagina dove c'è l'anagrafica del docente che fa domanda di mobilità e facendo ancora avanti entriamo in questa pagina domande disponibili facendo inserisci al trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado avremo anche la possibilità di fare i passaggi di cattedra o i passaggi di ruolo per il secondo grado ma noi facciamo la domanda di trasferimento facciamo inserisci ecco che ritorniamo nella sezione proprio data per le domande da compilare l'anzionità del servizio le esigenze di famiglia titoli generali precedenze scelta tipo posto requisiti preferenze e indicazione degli allegati oggi andremo a trattare la casella scelta di tipo di posto e le preferenze che sono due sezioni obbligatorie per dare fare la domanda e poterla inviare per poter salvare e poi inoltrare la domanda allora la scelta di tipo di posto sono le caselle 35 e 36 allora e intanto si può rispondere affermativamente o negando il fatto che il docente sia titolare su posto di sostegno ed è soggetto al piccolo quinquennale chiaramente chi non è titolare su sostegno non potrà cliccare questa casella il punto 36 invece costa di due aree possibili il posto normale e il posto sostegno cioè l'ordine di gradimento del tipo di posto per cui si vuole fare la domanda di trasferimento allora se si vuole fare prima il posto normale si mette uno qui e se si vuole fare anche il posto di sostegno come subordinata si mette in due posto di sostegno viceversa se si vuole dare al posto di sostegno la precedenza allora si metterà uno sul posto di sostegno ed eventualmente due su posto normale oppure se non si vuole dare se si vuole fare solo sul posto normale si metterà uno sul posto normale e nessuna selezione sul posto sostegno così la tipologia di posto sarà solo il posto normale si potrebbe anche fare solo o nessuna selezione posto normale e solo tipologia posto di sostegno ci sono le varie opzioni noi per esempio facciamo solo sul posto normale dunque nessuna selezione sul posto sostegno e la priorità solo ed unicamente al posto normale a questo punto possiamo fare salva possiamo salvare questa richiesta e dunque poi ci dittirà il sistema stesso di indicare almeno un codice di preferenza e allora andiamo sulla voce preferenze e andremo a farvi vedere come si può aggiungere ad esempio una scuola intanto si dovrà selezionare il tipo intanto dobbiamo vedere di aggiungere una scuola e andremo a selezionare il tipo di regione che vogliamo fare per esempio la calabria la provincia dove ci vogliamo muovere per esempio reggio calabria il comune e il distretto di questa provincia per esempio la città di reggio calabria e poi andremo a selezionare le scuole ecco qui ci darà tutte le scuole del comune di reggio calabria se per esempio si volesse fare trasferimento liceo classico convitto tommaso campanella basterà fare conferma in questo tasto e ed ecco qua che comparirà nell'ordine di preferenze la prima preferenza che sarà proprio il liceo classico convitto se se ne vuole aggiungere un'altra si procede alla stessa maniera si può per esempio fare sempre calabria sempre reggio calabria sempre lo stesso comune di reggio calabria se si può selezionare un'altra scuola per esempio il liceo delle scienze umane gulli e la conferma ci darà anche la seconda opzione chiaramente se voglio far diventare il liceo scienze umane tommaso gulli come prima preferenza basterà cliccare la freccia verso l'alto ecco che diventa la prima se la voglio far ritornare come seconda preferenza freccia in basso e ritorna come prima le preferenze possono essere sono messe in ordine ecco di numerico perché il sistema le vaglierà in ordine numerico alla domanda si possono fare preferenze di anche di comuni di regioni diverse assolutamente sì se io volessi per esempio andare in piemonte dopo avere spesso le il trasferimento su reggio calabria che è la mia serie di titolarità e dunque sarebbe un provinciale potrei scegliere piemonte per esempio la provincia di torino per esempio il comune di ivrea selezionando la scuola potrei prendere per esempio l'istituto di istruzione superiore olivetti fare conferma ed ecco qui che comparirebbe la scuola di torino in questo caso la priorità viene data a nell'ordine alle scuole di reggio calabria sulla scuola di torino se volessi fare l'inverso dare la priorità a torino su reggio calabria basta portare torino come prima preferenza e così avrò la preferenza modificata e fare poi appunto salva salvando potrei appunto avere questa situazione posso riaggiornando il modulo facendo su aggiorna modificare le preferenze aggiungendo ne altre oppure cliccando in queste voci 38 39 40 41 e 42 per dare delle specificità per esempio se volessi delle cattere orario anche tra comuni diversi basterebbe cliccare questo se lo volessi sullo stesso comune le cattere orario basterebbe cliccare qui oppure per avere disponibilità l'insegnamento sulle scuole serali potrei cliccare questo la disponibilità nei licei europei visto che ho messo un convitto potrei mettere questo togliere le scuole serali e mettere l'insegnamento presso una scuola carceraria che soprattutto sono valide per le preferenze sintetiche perché per le preferenze puntuali dovrei proprio esprimere la scuola carceraria in particolare mentre la 38 la 39 la 40 la 41 sono sezioni per le preferenze sintetiche la 42 e per ogni singola preferenza data e anche per le sintetiche si intende speriamo che questo video sia utile ai nostri lettori continuate a seguirci perché ne faremo degli altri concluderemo con altre parti che verranno nei prossimi giorni pubblicate arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti